Dividendo la sua relazione in cinque parti, il sindaco Serfilippi, ieri sera in Consiglio Comunale, ha sintetizzato le linee programmatiche relative agli obiettivi, alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2024-2029. Ha parlato della città più sicura, rafforzando la collaborazione con le forze dell'ordine per combattere vandalismi, spaccio di droga, liti, aggressioni e tumulti, specie in zona mare e in centro storico. Ha parlato anche di una città più condivisa, basata sulla partecipazione attiva dei cittadini, di una città più vivibile, fondata sul benessere e sulla sostenibilità ambientale, di una città più bella per arricchire la qualità della vita, attrarre turismo e stimolare gli investimenti. Insieme a lui è intervenuto, non senza polemiche, con l'eredità ricevuta anche l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari, su progetti in corso di esecuzione parzialmente mancanti di risorse. Ci sono cantieri dove mancavano milioni di euro per essere completati, che abbiamo sanato con questa variazione di bilancio, con questo piano trennale. Sono contento dell'approvazione sia a delle linee programmatiche che del DUP, che è il documento unico di programmazione e di queste variazioni importanti perché le promesse che avevamo fatto di rispettare nei primi 100 giorni, penso ad esempio al piano urbano del traffico, l'incarico, piuttosto che alla manutenzione delle strade con 2 milioni di euro, piuttosto che ad esempio l'impegno che ci eravamo presi per quanto riguarda il canile e il gattile, le abbiamo rispettate. Ci sono anche altri finanziamenti che abbiamo inserito come i cimiteri comunali che versano nello stato di degrado, gli arredi urbani, le scuole. Ecco, stiamo piano piano, con grande difficoltà, cercando di sanare tutte le mancanze che abbiamo ereditato. Fino ad oggi abbiamo tenuto un profilo molto basso, non mi piace scaricare le responsabilità sugli altri e me le prendo, ma mi prendo le responsabilità di quello che faccio e che stiamo facendo insieme alla Giunta con un grande lavoro da parte di tutti. Quindi questo è il punto zero, da oggi in poi è chiaro che tutte le opere dovranno essere completate e ci assumeremo la responsabilità di quello che faremo. Ereditiamo dei cantieri molto complessi che avranno bisogno di rifinanziamenti. Penso allo Zengarini, 1 milione e 100 mila euro di finanziamento aggiuntivo, prelevato dall'avanza di bilancio precedente e che non vedrà la luce prima di maggio del 2025. Penso a Piazza Andrea Costa, dove saranno necessari ulteriori 800 mila euro, già finanziati dall'avanza di bilancio per arrivare a conclusione, speriamo entro metà del prossimo anno per permetterci la rendicontazione entro il 2026, come prevede il PNRR. Penso al Waterfront di Sassonia, penso a tante altre opere che noi abbiamo la necessità di finanziare per fare in modo che non si possa parlare di incompiute. Il parco urbano ad esempio è una di queste, millantato come grande rivoluzione verde della nostra città, dove c'era a disposizione addirittura un laghetto, bene, le cose bisogna dire come stanno, quello è un campo, non è un parco. L'amministrazione comunale ha intenzione di porre rimedio a questo problema, di riprogettare l'area insieme ad una visione di città che possa integrare quello che c'è con quello che potremmo andare a realizzare. Però anche qui abbiamo la necessità di rifinanziare parte delle opere, la casa del parco verrà ultimata entro l'anno, l'area giochi è già stata ultimata, la ciclabile di competenza comunale è adesso oggetto di interconnessione con la ciclovia del Metauro che è finanziata dalla regione, però di fatto come stadio di avanzamento di progettazione su quell'area non c'è altro, noi ci prenderemo l'impegno di riqualificare e di riprogettare l'intera area. I lavori pubblici sono a disposizione della città, sono a disposizione dello sport, sono a disposizione della cultura, sono a disposizione di tutti gli ambienti che fanno della città una visione di insieme e quindi dovranno essere una parte di progetto intersecato, connesso con tutti gli assessori che fanno parte della giunta insieme a me e chiaramente secondo le indicazioni del sindaco. Quindi grande attenzione a portare avanti tutti i lavori che abbiamo ereditato per fare in modo che non rimangano delle incompiute, faremo nuova progettualità in una visione di insieme con l'augurio di poter lasciare un segno per la città, però facendo un qualcosa di nuovo, cioè assumendoci la responsabilità politica delle nostre azioni. Non troveremo mai modo di scaricare sui tecnici o sui altri le scelte che questa amministrazione ha preso di concerto con il sindaco e di concerto con tutta la giunta.